passarono gli anni malgrado le privazioni galden crebbe in modo normale e diventò un robusto ragazzone siccome aveva poca disposizione per lo studio lo utilizzavano sempre più per lavori manuali necessari al monastero così un giorno fu incaricato di andare a raccogliere fascine e pezzi di legno nella vicina foresta quando dopo tanti anni di reclusione si trovò per la prima volta da solo in libertà in mezzo agli alberi la sua felicità fu immensa la foresta inondata di sole risuonava di un'esistenza gioiosa a galden tutto appariva meraviglioso l'odore resinoso degli abeti il canto degli uccelli il profumo dei fiori e l'aroma dell'erica inebriato dall'aria aperta correva come un pazzo raccogliendo rami morti e di colpo vide un cespuglio di lamponi selvatici li mangiò avidamente nello stesso tempo pensò come faccio a tornare qui abituato da anni di addestramento all'ipocrisia e alla furbizia capì che il modo migliore d'agire era di compiere le proprio dovere alla perfezione e ricevere i complimenti allora si tosse il copricapo lo foderò di foglie e lo riempì fino all'orlo di lamponi quando la sera galden coperto di sudore carico di fascine e con altraino molti rami rotti rientrò al monastero offrì i lamponi al monaco incaricato di assegnare i lavori della giornata che ne fu molto soddisfatto e in seguito galden fu designato ad andare a prendere la legna non mancava mai di portare qualcosa al vecchio monaco fragole mirtilli funghi gli sembrava giusto offrirgli tutto visto che gli permetteva di andare nella foresta un giorno raccontò al vecchio monaco di aver visto degli sciami d'api selvatiche e che pensava di sapere dove fosse l'albero dove tenevano il miele ma siccome l'albero si trovava sul versante di un'altra montagna per portargli il miele avrebbe dovuto uscire di buon'ora e per l'intera giornata se tutto andava bene il miele senza saperlo il ragazzo aveva toccato il punto debole del vecchio privo da molto tempo di quella rara prelibatezza la prospettiva di averne lo rese subito benevolo gli diede l'autorizzazione richiesta e il giorno successivo all'alba galden partì per la montagna andava respirando a pieni polmoni l'aria fresca e ascoltando con piacere il canto degli uccelli un picchio verde martellava instancabilmente una quercia un fagiano bianco si involò con un grido rauco colombacci tubavano sugli alti rami una lepra scappò davanti a galden che rise come un bambino alle sue pirouette il cuore gonfio di gioia partecipava con tutto se stesso a questa pienezza di vita felice e libera galden non aveva sbagliato i calcoli e dopo una breve ricerca trovò il luogo dove si nascondevano le api si mise sul viso un velo trasparente salì sull'albero riuscì a rubare il miele poi scappò velocemente si sedette per terra a gustare ciò che aveva trovato per le punture le mani gli pizzicavano e non sapeva come lenire il dolore sopra la sua testa il sole d'ardeggiava era mezzogiorno e galden aveva ancora lunghe ore di libertà davanti a sé sfamatosi decise di esplorare i dintorni per cercare una fonte d'acqua si alzò e partì con un passo lento raccogliendo fragole e allontanandosi sempre più dal monastero dopo un'ora di cammino aggirò completamente il versante e si trovò sul lato sud un panorama magnifico si presentò ai suoi occhi molto lontano si stagliava una catena di montagne in alto nevi perenni brillavano in cima ai ghiacciai aquile planavano nel cielo puro un piccolo lago dai riflessi smeraldini occupava una conca fra le due montagne anatre selvati che scivolavano sulla superficie immobile lasciandosi dietro una scia argentata galden contemplava incantato queste meraviglie quando improvvisamente arrivò alle sue orecchie un flebile belato di capra un animale smarritosi possibile si diresse con prudenza verso il luogo da cui sembrava partire il richiamo e sbucò davanti a una caverna galden si fermò di colpo c'era una capra legata a una bete una pentola bolliva sopra un rozzo focolare proprio per terra e davanti all'entrata della grotta c'era c'era un uomo di alta statura era un vecchio robusto e irsuto vestito come un semplice contadino ma aveva un pugnale infilato nella cintura un rosario composto da grani in pelle di serpente attorcigliato al polso e la sua testa era coperta da un cappello a punta nel quale erano infilate piume d'aquila il cappello degli stregoni tibetani con i suoi grandi occhi neri scrutava il giovane monaco tranquillamente cosa viene a fare qui domandò con severità sconcertato galden tacque uno stregone non si aspettava un incontro simile allora sei muto o il mio aspetto ti spaventa al punto da farti perdere il dono della parola disse prendendolo in giro galden spiegò che il belato di una capra gli aveva fatto supporre la presenza di un animale smarritosi nessuno qui si è perso salvo il tuo buonsenso hai mai visto capre andare tutte sole in una foresta come ti chiami galden quello pieno di gioia la vita nel tuo monastero ti dà molte occasioni per allegrarti sai chi sono galden scoste la testa in modo negativo mi chiamo badma galden tremò come mai non l'aveva capito subito che imbecille era stato badma il famoso stregone del lago verde il più potente incantatore di serpenti colui che sapeva scongiurare la grandine teneva sotto il suo potere tutti gli uccelli galden ricordava confusamente le incredibili storie su questo stregone che aveva ascoltato durante la sua infanzia e anche quello che i monaci si bisbigliavano all'orecchio riguardo ai poteri tantrici di quest'uomo allora abbagliato dalla gioia di trovarsi in presenza del grande batman galden lo salutò umilmente rispettosamente profondamente un sorriso malizioso scivolò sul rugoso viso del vecchio vedo che un po mi conosci disse osservando con attenzione il giovane tutti ti conoscono perdonami la stupidaggine di non averti riconosciuto subito non mi aspettavo di incontrarti qui rispose galden badma indicò il paniero su cui ronzavano alcune api rabbiose allora sei venuto a rubare il mio miele non sapevo fosse tuo prendilo ma si generoso lasciamene un poco non per me non ne ho alcun bisogno ma per il vecchio monaco che mi ha permesso di andare a cercarlo se non gli riporto qualcosa non mi lascerà più venire nella foresta e sarò di nuovo chiuso nella lamasseria sul viso gli apparve uno sconforto tale che badma si addolcì ti piace la foresta oh sì confessò galden con un sorriso infantile qui si è liberi va bene condivideremo decise badma siediti ti do una medicina per le mani sono state punte così tanto che devono far male vedo che le mie brave api si sono difese bene stupefatto galden guardava lo stregone con grande rispetto la testa potente dai tratti rudi come tagliati con un coltello era bella una lunga barba bianca rada nascondeva in parte il mento volitivo un'ampia fronte bombata e rugosa sormontava le cespugliose sopracciglia sotto le quali brillavano con intenso fulgore gli occhi dallo sguardo indagatore un piccolo specchio di bronzo inciso con numerosi segni complicati era appeso al suo collo con una cordicella nera perché mi guardi in quel modo chiese badma ti ammiro non è il caso sono un uomo come tutti gli altri salvo che so alcune cose che altri per pigrizia hanno messo ad imparare uso le mie conoscenze come tu usi le braccia sì ma nessuno è così potente come te nato due volte sei sei come colui che tiene il fuoco del cielo perfino perfino i demoni ti obbediscono rispose con convinzione galden padma fu colpito da questa sincera ammirazione invece di mandare subito via il giovane come all'inizio intendeva lo interrogò con cortesia al vecchio ci volle poco tempo per decifrare completamente la natura dei sentimenti di galden diventò pensieroso visto che alla lamasseria sei così infelice vieni qualche volta qui a chiacchierare con me questo ti farà conoscere sempre qualcosa sulla vita gli animali gli uomini ma se vuoi che siamo amici non toccare mai gli uccelli nei loro nidi nelle loro uova nemmeno le loro piume cadute a terra che ogni uccello ti sia sacro come buddha e non parlare con nessuno del nostro incontro se desideri poter tornare qui i tuoi lama non mi amano per nulla diffidano di me i due si spartirono il miele e galden con grandi ringraziamenti si congedò dal vecchio stregone padma gli indicò un aero stretto sceni da qui arriverai al lago agiralo sulla destra e risali dove ci sono tre grandi abeti ti eviterai due ore di cammino sull'altro versante troverai facilmente la strada galden si incamminò felice della nuova conoscenza quando rientrò al monastero il sole era all'orizzonte fortunatamente per lui nessuno aveva fatto caso alla sua assenza portò il miele al vecchio monaco che ne fu felicissimo e la vita riprese il suo corso normale lo stregone li parva essere il più grande saggio del mondo e desiderava rivederlo non era così facile le sue possibilità di uscire si facevano sempre più rare si era guardato bene da raccontare a qualcuno quello che accadde nel suo incontro con badma e questo segreto lo faceva sentire più importante usando molta furbizia con un'astuzia una tenacia fuori dall'ordinario galden durante l'estate riuscì ad andare a trovare badma ancora due volte fu ben accolto e da queste visite riportò una sensazione assolutamente nuova aveva un amico e che amico il potentissimo badma se lo sapessero i monaci come sarebbero stupiti di sapere che il loro misorevole compagno era onorato dell'amicizia di un così famoso stregone galden esultava per l'orgoglio e gli era sempre più difficile tenere la lingua a freno avrebbe voluto gridare la sua gioia in faccia a tutti i lama